la temperatura perché abbiamo necessità di cuocere la semola. La semola, come vedrete, la ritrovate nel ripieno ed è 600 grammi di semola, andremo a cuocere. La semola è un elemento basilare, fondamentale, uno dei pilastri del ripieno. Perché? Perché si cuoce, dobbiamo portarla a raffreddare. Qui voglio fare una piccola osservazione. Chiaramente, sempre per il discorso della tempistica, noi oggi qui vi dobbiamo far vedere i vari passaggi, quindi la cuociamo in questo momento per farvi capire in che modo si fa. Però nella tradizione amalfitana, parte europea, campana, che dir si voglia, la semola si cuoce sempre il giorno prima, addirittura volendo due giorni prima. E questo avviene un pochino per tutti i dolci della tradizione campana. Non so se avete mai provato a fare la pastiera.